La residenza organizzativa sta diventando un tema sempre di maggior interesse anche perché negli ultimi anni i livelli di incertezza di cui si parla da decenni sono ulteriormente aumentati con le guerre, le pandemie e quindi fattori anche esogeni al mercato, i cosiddetti cegni neri. Come dicevo appunto da anni si sostiene che le organizzazioni per affrontare questi sistemi altamente incerti devono andare verso strutture organiche, cioè strutture che non utilizzano più i meccanismi operativi, le procedure che sono intrinsecamente rigidi e statici ma hanno bisogno di nuovi meccanismi che sostanzialmente aiutino a processare meglio le informazioni, quindi ruoli laterali, project manager, responsabile di processo e anche i sistemi informatici. Però in questi ultimi anni la complessità e l'incertezza è aumentata ancora di più. Possiamo considerare almeno tre elementi che interagiscono tra di loro. L'incertezza propriamente detta, non so che cosa guarda il mercato. La complessità, ci sono molti fattori che si interredono tra di loro, a volte un piccolo modifica in un punto molto lontano, provoca grosse modifiche in un punto più vicino. E la tecnologia, cosa servirà domani, quale sarà la nuova tecnologia che prima è un'opportunità e poi diventa una necessità. Ecco, questi tre fattori assieme hanno aumentato ulteriormente i livelli di incertezza da gestire e quindi i meccanismi organici di cui dicevo prima, anche loro cominciano a avere fiato corto. Si pone il tema di spostare verso il basso le decisioni aziendali, quindi avere livelli operativi in grado di prendere decisioni. Questo vuol dire, per avere decisioni realmente efficaci e coerenti con l'identità aziendale, almeno rispettare tre elementi chiave. Uno, che i decisori conoscano la strategia aziendale e condividano un certo tipo di approccio. Due, che si sentano responsabilizzati e vogliono prendere delle decisioni, perché c'è il rischio opposto della cosiddetta delega verso l'alto, quindi non vuole prendere decisioni. E infine le competenze, competenze specifiche che mi consentono appunto di prendere queste decisioni. Però a questo io aggiungerei un altro elemento, che sono i valori, la mentalità, la concezione del mondo, che sono la base sulla quale poi vengono prese certe decisioni. Cosa intendo dire? Che Harry Mintzberg, famoso teorico dell'organizzazione, aveva secondo me spiegato in modo molto chiaro come faccio a coordinare le persone. Teniamo presente che l'organizzazione è ovviamente un insieme di persone che si mettono assieme per svolgere un compito, raggiungere un obiettivo che sicuramente non potrebbero raggiungere. Però per lavorare come team devono coordinarsi e il coordinamento tra persone avviene semplicemente tramite lo scambio di informazioni. Quindi il suo tema è come posso migliorare la comunicazione. C'è la cosiddetta standardizzazione dei processi, che è quella classica che ho citato prima, che è a fiato corto, quindi procedure e meccanismi operativi. Quando il livello di incertezza aumenta c'è la standardizzazione degli output, per cui io non so come devo fare, ma definisco quali sono gli obiettivi e poi di volta in volta definisco il come. Quando il livello di incertezza aumenta ulteriormente, in cui io non so neppure esattamente quali sono gli output che mi aspetto e gli obiettivi che mi voglio opporre nel medio-lungo, c'è la cosiddetta standardizzazione degli input, cioè avere all'interno dell'azienda o dell'organizzazione risorse con le competenze necessarie in modo che loro possano prendere autonomamente decisioni informate per chi hanno le competenze. Quindi questo è l'ultimo passaggio, che secondo me però andrebbe un po' allargato, perché questa tradizione degli input secondo me non dovrebbe essere più semplicemente le competenze, come dicevo prima, ma anche proprio i valori che avevo citato qualche secondo fa, perché è chiaro che se un gruppo di persone condividono lo stesso modo di vedere l'azienda e il mondo più in generale, è molto probabile che di fronte a situazioni impreviste, in cui non ho previsto alla reazione, abbiano appunto una reazione che sia molto simile tra di loro, proprio perché condividono questo background. Questo è importante perché mi consente di avere un'organizzazione che è adattabile, però allo stesso tempo mantiene la propria identità, per evitare che di fronte a situazioni diverse e imprevedibili, diverse persone prendano decisioni completamente diverse, quindi si perde l'identità aziendale. E quindi secondo me questo è un elemento veramente importante, come si fa ad avere questa identità di valori sostanzialmente attraverso due strade, o assumo persone che abbiano già questo tipo di mentalità, oppure attraverso la formazione, attraverso il coinvolgimento di queste persone le faccio crescere all'interno dell'organizzazione fino ad arrivare a condividere questa mentalità. E questo è il motivo per cui dico che si potrebbe essere questa sorta di ossimoro, per cui un'azienda per essere flessibile deve essere stabile, perché per far crescere questa comunanza di valori non lo posso fare con risorse temporanee che stanno un mese o un anno in azienda, ma devono condividere la vita aziendale.